Il secondo quattro che mi ha colpita ha tutti abbracciati e ho visto questo che stai a passare. Qual è? Ah, non so se... È il catalogo, però non stai in questo gruppo di quattro. Sono tutti al catalogo. Allora, il bacio è la notte. Il bacio è la notte, si accende, e sulla scia infuocata di stelle gallegni si consumano di sogni e canti di passione, fugace la notte, nel suo mistero di abbracci e baci appassionati. È sua lente questa notte dipinta l'amore, dal mio cuore innamorato. La notte al buio, abbracciati io e te, al pensiero, ancora questo amore mi seduce l'anima. La domanda è questa, da questo verso, ancora questo amore mi seduce l'anima. La notte, per lei, diciamo, che è il momento ideale per esprimere la sua arte, lei si sente ancora seduto dalla virtù, perché diciamo che la scrittura è un amante, sono amanti, quindi lei è ancora seduto dalla virtù, o in certo di altro. No, no, non sono ancora seduto dalla virtù, questo è fondamentale, nel senso che sono seduto e penso che mia moglie debba essere gelosissima di ogni altra donna, perché lei lo sa bene e questa pittura per me è bene, per i miei familiari è, come si può dire, ruba tanto tempo agli affetti della mia famiglia, insomma. Cioè io tante volte sono via, per tempo, torno a casa, lavoro alle 6, mangio, poi fino a mezzanotte, per cui la moglie mi dice, ma ti sei rinventato? Non ho lo studio vicino a casa, sono 400 metri però, infatti una sera venuta a vedere un po' di scattato, lui mi ruba tanta, è un amante che ruba tanto tempo. un amante geloso che ti dice. prego